Elezioni regionali. I risultati ufficiali che riguardano Caltanissette in basal dato provvisorio di 13 sezioni scrutinate su 56 vede il centrodestra in testa con Renato Schifani e il 35.24% dei nisseni che lo ha votato. A Cateno De Luca va il 23,31%, segue il 22,43% di Noncio Di Paola e del Movimento 5 Stelle, il 17,57% per Caterina Chinici del PD, 1,06% di Gaetano Armao Azione Italia Viva, 0,38% di Eliana Esposito Siciliani Liberi. Lo scrutinio delle elezioni regionali in Sicilia ha avuto inizio alle 14 e determinerà in base a quanto emergerà dalle 5.293 sezioni della Sicilia chi sarà il nuovo presidente della regione e i deputati dell'Ars. L'affluenza regionale ha visto il 48,62% esprimere il proprio voto, dato di quasi due punti percentuali in più rispetto a quello delle regionali di 5 anni prima, cioè 46,75%. Significa che domenica in Sicilia hanno votato 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. I dati definitivi delle 23 di ieri vedono la provincia con più affluenza Messina al 53,4%, seguita da Catania al 52,24% e Palermo al 50,14%. Dato che riguarda invece le altre province, vede Siracusa al 48,37%, Trapani al 48,12%, Ragusa al 47,08%. Agrigento al 41,46%, Caltanissetta al 40,81% e infine Enna al 39,99%. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana che saranno eletti seguiranno la seguente ripartizione dei seggi. 62 dei seggi saranno attribuiti con sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale, per cui 16 seggi andranno a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetta al candidato della presidenza della regione eletto, un seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze. Poi ci sono i sei seggi assegnati all'interno della lista regionale del candidato presidente. Questa lista bloccata ha la funzione di premio di maggioranza, permette alla coalizione che sostiene il presidente della regione eletto di avere al massimo 42 seggi all'arsa. I seggi non utilizzati saranno poi distribuiti con criterio proporzionale alle liste di minoranza che hanno superato lo sbarramento.